E' un giusto riconoscimento per circa 200 attivisti che si sono in questo periodo attivati e hanno costituito 202 circoli. Un risultato importante, storico, se paragonato alla precedente esperienza sia del PDL che dell'Ansia Nazionale Canto di Forza Italia e se paragonato a quello che è avvenuto nel resto della provincia. E' un omaggio a tutti gli attivisti e simpatizzanti agli iscritti del nuovo centrodestra in provincia di Siracusa. E mi pare che tutto ciò sia giusto e doveroso. Il riconoscimento dovuto ai giovani, alle donne, ai meno giovani che in questi mesi si sono attivati con grande spirito di abnegazione hanno dato vita a un partito che è presente in tutta la provincia, in tutti i comuni, in tutti i territori, non essendoci alcun luogo dove il partito non sia presente.